Il sindaco di Sansevero, Francesco Miglio, incontra gli studenti dell'Agrario dopo la manifestazione a sostegno proprio degli agricoltori di Capitanata. Ho incontrato molto volentieri gli studenti dell'Istituto Tecnico Agrario di Sansevero, i quali hanno manifestato in modo molto responsabile ed educato a sostegno delle legittime rivendicazioni degli agricoltori. Durante l'incontro, che si è tenuto nella sala Recca di Palazzo Celestini, il sindaco Miglio ha apprezzato, pur nella gravità della situazione, l'attenzione degli studenti per le problematiche del settore agricolo e ha condiviso le loro legittime preoccupazioni sia per le famiglie con genitori che lavorano nel settore primario che per il loro futuro da professionisti che opereranno per lo sviluppo dell'agricoltura. Ci siamo lasciati, dice Miglio, con l'impegno da parte loro di compiere attività di sensibilizzazione dell'intera cittadinanza e di coinvolgimento di tutti gli studenti, creando un incontro per la riflessione e la discussione delle problematiche che assillano gli agricoltori. Ho sempre riservato molta attenzione al mondo della scuola e ho sempre avuto massima simpatia per i giovani. Non abbiamo da temere per il futuro, ha concluso il sindaco Miglio.